e andiamo a giocare a Malia così questo è contro i Fenici immagino però vabbè ma non capisco perché a sto punto non est ma bruttino est la side è un po' particolare è molto particolare e questa la prendo con Collected ho capito questo contro control non è Best of One cosa? di certo no io non gioco Best of One Qualifier è sempre Best of Three non è mai esistito un Qualifier Best of One mai per fortuna il Best of One ancora non è arrivato nei tornei seri Amalia ok e allora Fatal Push ok Tozza ok questo Rakdos però Earth non mi convince molto contro Fenici Earth la mia safekeeping vabbè proviamo sta versione e poi insomma capiamo non tutto mi convince ciao Evan buonasera buonasera caro vabbè tanto come 11 gare 4 4 4 9 10 e qua è l'undicesima questo ne ho 2 ah no questo nemmeno 1 e vabbè craftiamo 11 gare se ne vanno e Amalia Amalia funziona così praticamente devono essere sul campo di battaglia contemporaneamente Amalia il Walker perché il Walker dice quando una creatura ai controlli esplora metti un più o più uno sul Walker e fai tre vite Amalia invece dice quando fai vite lei esplora quindi diciamo basta che guadagniamo una volta un punto vita con loro due in campo e scombano e come li facciamo ai punti vita con l'inkeeper con l'attacco di batter con il veteran ci sono diversi modi come chiude se hai diciamo dato che scrai fai sempre scrai ti vado a prendere questo qui quando hai poi 50 vite paghi 50 ma di solito l'avversario concede prima si si sono andato a dormire rinfrescata cioè fa prende caldo tanto quando fa caldo e quindi boh proviamolo proviamolo non capisco perché elementare vampiro forse perché non c'è la caverna of souls vabbè vediamo come va questo è il mazzo comunque il mazzo è questo quindi poi ci sono tutte le altre carte fondamentalmente che servono a trovare velocemente a mario lo specialist è molto forte e te la riprende dal cimiteo apparition è un removal in più da da collected visto che non giochiamo removal di main deck in questo mazzo quindi l'unico removal in realtà è l'apparition main deck in questa lista vediamo quindi qua bisogna fare vite cercare la combo è un mazzo proprio combo molto puro ma perché ci gioca mana confluence perché è un tricolor nei tricolori in pioneer si giocava sempre mana confluence è molto comoda più che altro come giocato explorer ranked amalia vamos vediamo com'è vediamo come va sto mazzetto non l'ho mai giocato ma ti dico di più non ho mai giocato a volte di queste carte cioè io tipo corda non ce l'avevo non ho mai giocato corda nella mia vita quindi se voi farò dei misplay però lo sto usando sia per vedere com'è il mazzo perché non l'ho mai giocato e sia perché giocandoli i matti voi diventate molto più bravi a giocarci contro quindi comunque un tier 1 del genere nel meta conviene giocarlo che sono una brava persona può darsi che sia quello il motivo però non lo sarò più perché adesso lo voglio giocare anche per capire il tipo di mazzo sembra una buona mano abbiamo la collected il blu e di che facciamo questo peschiamo terra questo è un control penso che sia un matchup abbastanza negativo in realtà forse è l'unico matchup negativo di Amalia eeeh proviamo così vabbè attacchiamo tanto squalo da zero non lo può fare però il batman contro secondo me è il matchup negativo di Amalia che è negativo immaginavo però diciamo vediamo vediamo allora lui ci parta turno dopo secondo me partiamo c'è la counter la qualsiasi giocata che faremo facciamoci canterare lui va si max lo proviamo l'ho appena craftato cioè onestamente non l'ho non l'ho mai giocato poi e comunque anche in historic si gioca quindi ovviamente lo sto prendo per il qualifier più che altro però allora non gli voglio far capire che ho la collected ma diciamo che è abbastanza evidente che io la abbia la proveremo a fare a fine turno suo c'è la counter e vediamo che succede lui ha missato land drop questo ci prendiamo un counter adesso ok ci prendiamo un counter dina oh però fa lo sky con amalia se muore dovrebbe trigger amalia se non sbaglio se non sbaglio dovrebbe triggerare vediamo altra terra credo ci prendiamo pratta ciao forse carissimo come stai avevo grande rispetto per lei un tempo giusto non averlo più no non trigger tutto sbagliato basta corda lui però lo sa che ce l'abbiamo ma la domanda è ma corda mi serve sì sì mi serve mi serve mi serve ma più che altro più che allineare cioè se io non imparo a giocarlo sto mazzo cioè non è che devo impararlo a giocare per giocarci contro perché io non lo conosco io sto mazzo non so che fa cioè so che fa spannometricamente ma solo spannometricamente e qui noi siamo un mazzo combo quindi giochiamo tutte le terre possibili allora con questa devo prendere extraction ma quando siamo safe che creature abbiamo che possiamo prendere il pipistrello mi dispiacierebbe troppo prenderlo qui però devo essere onesto sai che faccio una follia qui va bene che me lo countererà pipistrello togliamo risorse invece sarà counter giustamente tra l'altro mamma forse cioè a chi lo dici mi sono stati i capelli oggi non ce la ce l'ho più pesca una teronità lo faccio adesso sento che devo fare qualcosa fare pipistrello lui pesca vedo che c'è in mano forse è sbagliata questa cosa però la faccio lo stesso voglio capire un attimino il mazzo tanto il matchup è abbastanza negativo io pago qui ci prendiamo pipistrello li guardiamo la mano dedius ok attacchiamo teferi che lui poi ha due pescate lo sappiamo che ha due pescate non è così stupido secondo me Amalia come si dice che sia questo è un problema cosa molto brutta ma siamo loccati qui ma questa la conosce quindi la diamo si toglie una terra dal mazzo e ce la toglie anche a noi questo è un problema questo è un problema detto ciò cioè tipo collected company se non l'account è vinta cioè se troviamo ovviamente però nel senso abbiamo parecchi out attacco singolare ciao generazione x ciao caro attacco singolare eh però sta pescando troppo con te feri mi sa sta pescando troppo ciao timone è la prima partita questa primo game in assoluto è tra l'altro contro un matchup che dovrebbe essere negativo però non credo li porterà mai a qualifari detto ciò ha senso giocarla per capire come si comporta ma questa le la posso concedere secondo me allora uv control uv control tozza aven non è che ne abbia poi qui tanti removal secchi ok clave non ci serve savior è forte qui basso uno scout i bat li voglio forse questa entri non fa niente entri viene canterata quella è meno forte sorse però ci sta questa come out 22 terre quindi terre non ne togliamo questa la chiusura c'è la counter non c'è la counter abbiamo due chiusure secche forse tolgo davvero un veteran qui non so se sto facendo bene anche le side date quindi se avete dei feedback a disposizione malligan questo è un keep questo è un keep e a maria me la tengo direi che togliamo una delle due fastland si senti amalia te la piazzo giochiamo intorno a censor che non credo lui lo giochi però non ha senso non giocarci intorno allora lockdown doppio lockdown qualsiasi cosa prendiamo inutile di conseguenza perché ci fa lockdown torno dopo e vabbè allora farà lockdown i cazzi allora inside io voglio dei dei cosi però non so perché non lo gioca sta lista però io li voglio giocare grazie grazie mille grazie per il prime non credo sia il primo mese mi dice primo mese ma secondo me non è primo mese secondo me non è primo mese comunque grazie mi ricordo che te l'hai già abbonato in passato no basta devo mettere non mi piace sta side di questa lista ho capito gli errori della side di sta lista è molto forte giocare l'artefatto contro questi affari qua non capisco perché non giocarlo è anche forte contro gabbia ah è un profilo nuovo è vero allora bentornato caro tra i sub e grazie mille per il supporto per il quinto mese allora cosa non mi piace ma questo fenici questi no questo per cosa per il mirror ok per il mirror il bat contro contro l'un altro però alla fine bat boh mi voglio mettere questi affari come si chiamano i might i might sono forti contro praticamente tutto contro gabbia eh questi questi li voglio almeno tre di questi almeno tre di questi in che senso alchemy no traditional explorer esatto poi vediamo tozze ok fatal push va bene questo contro ci sta contro mirror alla fine questo contro contro è forte contro rakdos si 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 guadagnano vite e ti protegge questo è molto forte è tipo sto skyclave a me che mi frega ok cioè si toglie toglie un po' di roba no main deck questo a questo punto invece questo main deck si che perché può togliere qui cioè si è per avere una soluzione ok ho capito qualche incantesimo ho appena messo il might ho appena messo il might infatti anche secondo me mancava ho messo il might che secondo me ci sta oh yes buonasera il might un altro bat che forse posso togliere è interrupter contro contro a me sembra forte metto un paio ma interrupter mettiamo e poi abbiamo umani merfolk scout elementare thesis tutti diversi scout un po' di scout ce l'abbiamo facciamo così io sono pazzo no ma è proprio sbagliato mettere una caverna qua c'è il triplo verde abbiamo bo seju come spacca incantesi così secondo me la side è un pochino più cioè almeno c'è un senso c'è più un senso vai perché questi tanto contro amalia la gente saida la gabbia lockdown questo le carte forti contro amalia e quindi il might ci serve sì esatto caverna qua perché più che altro abbiamo triplo verde di corda abbiamo tutti i tipi diversi di creature abbiamo collected company c'è troppa una roba molto meglio ma una confluence e qua un keep contro contro monoverde tecnicamente un mazzo non è monoverde si è monoverde ma un mazzo combo contro monoverde non dovrebbe essere male tecnicamente collected amalia cosa vinta passi passi la terra c'è sacco fai fai vai amalia più coso su questo c'è amalia no due di questi non servono extraction non serve beh oddio due di questi metto questo facciamo vite ah è con l'alela in bianca no lo blocca un po' ho perso appena perso un punto vita qui ma lo faccio comunque ho perso un punto vita però dobbiamo giocarlo prima qua manca solo Amalia manca solo Amalia 4 passano allora vite un po' le facciamo vai ah è vero la multicolor però non ha senso a quel punto boh 5 danni li posso prendere in realtà però mi scambio allora però ecco su un doccio così prendiamo solo 4 indistruttibile qua Amalia Amalia corda corda dove sta questo le line dalla mano corda corda vinta o sbaglio corda vinta esattamente corda vinta allora mono verde mono verde mono verde mette gabbia turno 1 con garden con le line in campo e fare la bianca subito ah ok 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 adesso mi è chiaro bianca vinta corda vinta se non è might qua è forte oddio però con con carne in campo non possiamo attivarlo in realtà cosa non è forte contro di lui apparition in realtà è forte Tina è forte vince on the spot o qui o teniamo tutto o metto un po' di fatal push forse un po' di fatal push posso mettere sì un po' di fatal push posso mettere posso gli riservi a questo non ce l'ha removal e un po' di fatal push un might metto per metterlo per metterlo proprio ok non è vabbè abbiamo fatal push in realtà che contro elfo è una bella giocata possiamo fare batti in keeper insomma un po' di cose ok fatal push pipistrello eh niente che ho allora questa per il turno dopo ce l'abbiamo no giochiamo in keeper vabbè lui può attivare questa in realtà però noi vogliamo quindi sti cazzo poi facciamo la collector turno dopo vite le facciamo vediamo che succede va ha senso farla adesso cos'è che cambia non cambia tanto non ha counter facciamo sempre nel suo qua tanto di counter non può reprieve non esiste chi ora ok top psycho buonasera buonasera cara tappa troll pesca terra vediamo che cosa vinciamo la lotteria amalia c'è eh boh questo sì direi che corda va bene direi che corda va bene no esatto micia contro monoverde non si perde mai 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 perché tanto facciamo vite corda cose contro monoverde non si perde mai quindi monoverde portare a qualifare è abbastanza inutile perché con amalia non vinci mai ma mai proprio contro contro siamo messi male questo lo sapevamo dido bonsai io devo fare ancora la top 10 di modern horizon se mi gira la faccio oggi solo che non so se fare la top 10 in generale perché è abbastanza scontata cioè oppure la top 10 solo per historic perché top 10 per timeless sono tutte le bannate cioè top 10 in generale sono tutte le bannate in historic no finisci non lo testo perché lo so giocare bene e non lo e non lo gioco 100% e a parte che lo trovo molto noioso ma anche molto fragile testerò però grul quello sicuramente lo testo non è che sia una grande mano però abbiamo lo specialista e walker sì io una cioè vorrei fare in realtà la top delle carte sopravvalutate cioè io vi dico una cosa secondo me la carta più sopravvalutata di tutta l'espansione è il mana d'orca troppo a 2 che non si giocherà mai e chi gioca a mono verde lo sa che non si giocherà mai cioè in historic non si giocherà mai quella carta lì i mana d'orca a 2 non si possono giocare in un formato del genere quella è la carta più la combo quella allora le carte più sopravvalutate di modern horizon quella mi verrebbe molto facile perché sono un po' tutti sopravvalutate cioè per me il mana d'orca a 2 è inspiegabile like buonasera buonasera cioè non si gioca mai il mana d'orca a 2 cioè se giochi mono verde lo sai che non si gioca mai è qui male è partito molto bene eh qua però qui ci starebbe le carte più sopravvalutate di modern horizon anche perché tutti fanno le top 10 nessuno fa le carte più sopravvalutate potrei pensarci sì anche perché ha vinta finito ciao oddio in realtà no perché con apparition posso togliere ecco no come non detto non abbiamo toglierà apparition non abbiamo altri non abbiamo altri modi di togliere la combo oggi ho sbustato uggins lab mamma mia mi sono sete l'ho eh noi sappiamo che ha vinto sappiamo che ha vinto allora amalia knight fatal push kaut lo possiamo togliere kaut lo possiamo togliere forse l'extraction tipo le 5 carte più sopravvalutate di modern horizon primo posto il mana d'orca sicuramente ma non perché sia scarso che non è scarso però non è forte come viene detto non è vero infatti non costa nemmeno tanto ma non ha senso non si gioca il mana d'orca 2 non ha nessun senso poi magari sbaglierò ovvio che uno lo può giocare e vince il ladder però dico non esiste in magic una cosa del genere secondo me non si giocherà mai con la carta lì ovvio che non si giocherà mai in modo cioè in modo da giocatori che sanno giocare poi ovvio che non è che fa cioè se non è che se la metti nel mazzo fa schifo comunque fa il suo però ecco il senso di sopravvalutato è quello cioè classica carta nuovisti mana d'orca 2 non si sono mai giocati in mazzi seri mana d'orca 2 non hanno senso sono quelli a 1 e tu dici metti anche quello a 2 e allora poi quanti mana d'orca devi giocare quindi devi togliere dei mana d'orca 1 per mettere quello a 2 però non ha mai senso quindi è quello il discorso in brawl in commander è ovviamente un altro discorso è una carta fortissima però su 60 carte tu hai accesso a 8 mana d'orca a 1 più 4 l'incantesimo che ti fa mana sono già 12 e non si giocano manco tutte e 12 poi c'è l'alfing che rende incanterabile quindi cioè per quale motivo e cosa dovresti togliere per giocare mana d'orca a 2 non si sono mai giocati quindi no è lì il mio il mio dubbio su quella carta lì togliamo la pain land qui togliamo la pain land vabbè qua se pesco un'altra past land ovviamente mi fustico però mi evita di prendere due danni vabbè che abbiamo anche prendendo l'altra pasta non possiamo comunque con le pet comp veterano ok si un keeper prossimo turno possiamo fare con le pet compagnie e vincere tecnicamente adesso io ho proprio il pistrello il pistrello toglie con le tet compagnie se si tappa faccio nel mio la cocco ovviamente ecco qua anche noi ce l'abbiamo di side questa anche noi ce l'abbiamo di side di side 4 per di questi inside effettivamente contro miro di amare ma anche contro contro questo qui non fa schifo ti dico anche contro i ripper questo non è male forse 4 di questi sono belli proprio con il meta che c'è adesso ma qui se doppio blocco no in realtà no allora vediamo un po' se troviamo il ok apparisce o l'abbiamo trovato visto che lui accorda visto che lui accorda io prendo il bat si accorda stacco vai no non c'è il comando non ho fatto lo anche perché tecnicamente è meglio non farlo per una serie di motivi mettiamola così per camalia poi gioca questo ok dobbiamo trovare il cavaliere no lo può fare adesso a convoca finita riguardiamo un attimo la side poi il cavaliere è forte proprio per toglierlo mi sono reso conto che nel mirror chi lo butta giù praticamente ha vinto quindi cosa posso togliere abbassiamo un might abbassiamo un might beaven contro contro mi sembra forte ho lette in risposta a una pratta ce la blocchiamo forse mettiamo uno di tamio e i tre tozze mi servono contro contro potrebbero diventare pure dure spero vediamo allora qui volevo aggiungere due cavalieri vediamo vale e 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 azzaro quindi vinto contro mono verde perso contro contro le mirror bella mano questa cos'è cos'è quel più 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 altra maglia altra maglia il gatto in che senso il gatto ciao dark carissimo salve salve ah il tuo gatto si è sdraiato mincia collected via ora questo è tutto bene take house come ti vanno terra altro di questi va bene altra terra vabbè lui ha il top deck qui devo mettere per forza in keeper più amalia mi piace mi piace in keeper più amalia qui se in keeper e poi collette il turno dopo e vediamo che succede più amalia corda ancora meglio ok se lui non pesca abbiamo vinto se lui non pesca abbiamo vinto cioè se lui non trova cose interessanti cosa va bene dai non top deckare cose brutte tipo la combo ok beh beh non pesca beh non pesca diciamo che sto annoiato non si annoi non si annoi caro un peccato annoiarsi nel 2024 allora mettiamo il night fatal push io credo che possa questo lo posso togliere secondo me o tolgo dina tolgo dina la sentinella blocca bene secondo me lo specialist lo abbassiamo togliamo lo scout è un veterano ma qui in realtà è abbastanza tosta decidere cosa togliere ogni volta nel mirror perlomeno forse il savior ecco il savior lo posso abbassare il lato oscuro di Amalia ciao marcus buonasera buonasera no oddio cioè la situazione qua non sembra male però credo che ci prendiamo meno danni alla fine di quell'antology dove c'era cord of calling lo sciamano letal mago quella lì alla fine si poteva prendere quella antology non l'ho presa vabbè non avrebbe comunque avuto senso perché io diciamo ho parecchie risorse però l'avevo sconsigliata quella lì di prenderla perché non sapevamo dell'uscita di timeless c'era anche il il tarmo in quella antology però alla fine sono dato che è uscito timeless quindi tarmo e lo sciamano li sono giocati corda in explorer si è giocata questo ci prende amalia o l'altro ci prende il nostro bat secondo me una mog lo ho sbussato pure io necro dominants bella e tritone delle isole quello lì carta ultra mega giocata sicuramente in keeper eh si è preso di pistrello così non posso vedere che c'è in mano lui capito magari ovviamente la scelta migliore per me era prendere di pistrello anche per questo di pistrello veterano ok scusate ma qua il risposto a scombo finchia ma che mazzo è finchia amalia comunque cavolo cioè sento la potenza nelle mani devo essere onesto con sto mazzo cioè non ci puoi fare niente cioè non puoi farci nulla o se azorius control e anche lì secondo me adesso che abbiamo messo un po' di accortezze comunque siamo messi male contro azorius control però no azorius control è il matchup negativo però nel miro vabbè chi scula prima vince è proprio foro cioè nel senso cioè qui si tratta di di roba che fa vita ne abbiamo un botto ok abbiamo otto carte che fanno vita a pipi pistrelli ci sono un sacco di modi di trovarle queste qua e una volta che le metti è finita cioè finita letteralmente è finita la partita ciao maro buonasera buonasera caro cioè non è sbagliato affermare che contro tutto quello che non è control sei 50 e 50 nel miro con gli altri prende stai sopra amalia amalia combo stiamo provando diciamo se non puoi battere unisciti a loro come dice un celebre film americano anni fino al 90 90 auto amalia cazzi e mazzi ma chi facciamo vite i cazzi pigati oggi ho pigati c'è removal per carità però la terza malia un po' to match un po' to match secondo me no terza amalia a fare fatto terza amalia a fare fatto ah si ma chi se ne frega terza amalia a fare fatto poi dobbiamo trovare terra ecco la collected insomma e lui adesso deve giocare lui è messo comunque nella condizione di non poter stare tranquillo oh no sono qualificato sono qualificato purtroppo però in realtà devo dire che non mi dispiace sto formato credo che sia un po' bistrattato faccio anche comodo bistrattarlo a volte probabilmente perché comunque c'è il discorso no c'è il discorso che non è cioè uno lo bistratta anche così la wizard magari si sveglia e mette pioneer e da quel punto di vista sono d'accordo anch'io però tuttavia credo che comunque sia un formato molto in salute cioè vedo un bel formato non vedo un formato così tossico onestamente alla fine puoi giocare anche i set pirati cioè non vuoi di più credo ci sia anche un po' la moda di bistrattare explorer beh questi volano quindi non mi dispiace onestamente il formato non siamo in combo nemmeno vicini per la combo dovremmo trovare il il walker più uno che ci va a fare vite però lui sta cercando removal per amalia adesso abbiamo l'altra amalia volendo scava nel mazzo helicopter eh quello è un altro mazzo interessante ti provo anche a bring to light per completare il midset beh certo ma oggi allora su youtube ragazzo mi ha messo un commento oggi su questa cosa qui non so se sei tu tra l'altro scrivendo che secondo lui non la mettono perché diciamo dovrebbero in caso qua devo fare la collected per provare a fare vite secondo me e la faccio nel mio e perché Dante è stappato anche adesso per evitare che lui possa avere una probabilità in più che lui non abbia counter e invece semplicemente fa così va bene ma dal push ce la metto qua e anche Tamio c'è un botto di removal possiamo togliere riservare non serve se facciamo vite qua lui concede non serve nemmeno Dina possiamo possiamo bastare lo scout io io in Amalia proverei anche il caso bianco che dà vite perché ti fa ripartire se ti spaccano la combo allora si tieni conto che si gioca Return to Ranks per quella roba lì che è più è più consistente detto ciò quando era uscito il caso bianco anch'io avevo considerato che potesse essere forte in Amalia e comunque lo è è solo che ci sono delle carte forse più consistenti cioè Return to Ranks fa la stessa cosa meglio perché non devi aver risolto il caso quindi c'è quel discorso lì di Amalia Evan è un mazzo fortissimo rimango dell'opinione che avevo prima di giocarlo bella mano questa qua dovrei togliere Ranks tecnicamente solo che è un peccato togliere Ranks o tolgo la Coco è solo che qua servono eh il doppio bianco in realtà ce l'ho pure credo che posso togliere Ranks qui o la Collette perché me li deve spaccare me li posso riprendere sì tolgo la Collette Company qui tutto vabbè però lui può esiliare vabbè comunque vediamo tighena ok turno dopo tecnicamente abbiamo fatto la combo se non ci spacca Link Keeper cosa che farà immagino no? può fare può fare torce the tower però lo fa tra l'altro se non fa torce the tower abbiamo vinto noi e questa è l'assurdità turno 3 vinta ma credo lo spacchi perché lo sa che possiamo fare e infatti vedi se l'è tenuta vabbè noi comunque cioè lo facciamo perché noi possiamo fare con Return to Rex un po' di cose lui mo ci spacca secondo me è risposta Link Keeper va Camalia ok esiliandola non la puoi esiliare si l'hai esiliata è vero e vabbè sti cazzi questa giochiamo purtroppo l'hai esiliata qui si prende un bel rischio lui però è calcolato abbiamo perso no? avrei dovuto giocare intorno a torce e tenermi con Letted Company probabilmente sì qua secondo me l'ho svegliata io perché avevo considerato rimozione su Amalio su Walker però effettivamente può fare Torgettower che esilia quindi Ranks non serve a un cazzo in quel caso qui ho sbagliato ho sbagliato dovevo tenermi con Letted Company e vabbè questi sono errori si chiamano da non conoscenza perfetta di quello che vai a trovare forse lui ha solo questo probabilmente per andare a rimuovere quindi contro di lui ha proprio tolta Ranks probabilmente se vinciamo per caso poi lo tolgo Ranks contro di lui perché vedi rimuove con questi al posto suo comunque toglierei Link Keeper per il semplice motivo che vabbè così lui ovviamente madonna l'avevamo fatta la mandracata peccato il ferocidonte avevamo fatto la mandracata qua peccato la mandracata è uscita qui allora abbiamo fatto il push che potremmo che potremmo potremmo comunque fare la combo se peschiamo fatal push possiamo attaccare lui blocca suppongo le facciamo fatal push in two ranks e vinciamo devono devono esserci sul campo di battaglia quelle tre carte ok ciao qua secondo me l'ho sperata io qua avrei dovuto teneri con le set compagnie contro di questo ricordiamoci vanno tolti i ranks perché tanto ha solo removal che esiliano quindi non ha senso tenersi ranks contro questo è meno meno 59.000 al milione di gold vero obiettivo del canale arrivare a un milione di gold per vedere che succede se qualcuno ci è arrivato mai un milione di gold questo è tipo millennium bug cioè tipo si resetta l'account cosa del genere magari appena fai un milione di gold si resetta istantaneamente l'account monoverde siamo abbastanza tranquilli ripeto contro monoverde siamo tranquilli ah si quindi che succede se vai oltre se vai oltre quella cifra penso che non puoi andarlo lo scopriamo perché noi arriveremo oltre quindi vedremo che succede ma quindi che fanno ti dà più gold questo significa che davvero nessuno è mai arrivato al milione se mi dici questa cosa qui abbiamo il capo dei degli halfing con noi bilbo baggins benvenuto benvenuto purtroppo no sì no terra corda no corda la tua io non la posso fare invece sì e invece corda da due in walk finita la partita ciao ah vabbè no punti vita però è diverso da altra corda ciao chion altra corda per trovare cosa chi se ne frega no no vai no vai vai poi dobbiamo andare a trovare l'artefatto qui non concede perché giustamente dice come dico io sticazzi ma dina ce l'abbiamo ma dina abbiamo mettere adesso perché ora ci prate per trovare l'artefatto qua eccolo ok 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 karn karn non ci blocca l'artefatto contro mono verde cioè mono verde non ha proprio motivo di esistere praticamente consiglio su chi si appoggia per prima volta a magic a magic o a magic arena perché è differente la risposta che ti posso dare però diciamo di base vabbè fammi sapere se è magic o magic arena ma di base ti consiglio intanto di entrare nel discord della community perché lì ci sono tante brave persone che ti possono dare tanti consigli utili a prescindere da quello che ti posso dire adesso in live e poi vediamo fatal push fatal push sì comunque dina continuo a pensare che non no forse in questo match up dina ci sta in realtà il savior no esatto prima cosa da fare grazie Evan prima cosa da fare riscattati tutti i codici che ti riempi di gemme di cose di carte perché sono tutti codici gratuiti rilasciati nel tempo quindi scaricando magic arena e riscattando tutti quei codici che li riscatti dalla sezione shop ti vai a diciamo a fare parecchie risorse innanzitutto dopodichè fai tutte le missioni iniziali dei mazzi base e impari a giocare piano piano e poi dopo in base a quello che ti piacerà ti daremo consigli beh teniamola questo allora elfo elfo non bene e noi abbiamo anche il nero però abbiamo corda fu così che perdremo contro monoverde siamo partiti lenti e lui parte veloce eh qua male qua è andata male forse dovevo mal ligare no vabbè no non potevo prevedere di non pescare mai più niente e qui a maglia si può prendere in realtà però mi serve qualcosa che fa le vite ok lui fa le vite però non abbiamo il mana nero e allora se sei un giocatore di magic navigato quello che ti ho detto su arena accumuli quelle risorse iniziali io onestante ti consiglio anche di prendere i due bundle quelli là iniziali perché hanno un valore molto alto rispetto a quanto costano i bundle iniziali quindi a prescindere dal tuo voler essere io tipo sono free to play tranne quei bundle a parte che come ho sempre detto mi sembra anche giusto dare il contributo e poi proprio quelli là ci stanno ti risparmiano tempo corda corda va bene corda qui va bene però ci serve va bene fino alla certa serve comunque un altro turno no possiamo in realtà prendere adesso il drop a 1 con lifelink e poi cosa Amalia se non perdiamo vediamo se non vince adesso lui non stiamo messi male se non ci deve togliere il walker se in qualche modo toglie il walker si mette male se no abbiamo la chiusura in mano stiamo giocando a scala 40 praticamente lui però non lo sa quindi gli faremo la chiusura out of nowhere si corda in tu drop a 1 in tu corda in tu Amalia si se non vince storm the festival in tu Karn potrebbe essere un problema perché Karn può prendere gabbia e non abbiamo risposto a gabbia in questo momento non è Karn ok lo può comunque trovare ha 6 mana in questo momento no in realtà ne ha di più ne ha molti di più vabbè non deve fare Karn e gabbia elfo ok eh se entra Karn sono volatili per diabetici oddio Karn non c'è in explorer è vero che pazzo che sono è vero Karn non c'è sono abituato ai story che è vero Karn non c'è allora come cazzo vince questo contro di noi non vince più scusate ragazzi ecco perché Bilba allora non c'è più risposta non c'è più risposta cioè che come vince sto mazzo quindi cioè contro combo non vince più questo mazzo io perché sto continuando a mettere le però potrebbe aver messo comunque gabbia da ok questo ok potrebbe essere problematico ok questo va bene ha vinto così va bene 8 5 eh sì quindi chiude con questo adesso sto mazzo non chiude con carne ok eh adesso lo so ragazzi scusate perdonate adesso lo so adesso lo so eh va bene i cazzi cioè è rosettato che che monoverde ha carne cioè è rosettato sul monoverde carne non è che sia tutta sta mano questa eh ciao dacci benvenuto a me sta dino non è che mi convince troppo tra l'altro non serve dina però non serve dina cioè chi se ne frega di dina vabbè per avere la chiusura alternativa però devi averla in campo non è che te la puoi andare a prendere dopo perché poi ti bratta maglia quindi boh la dina a me non mi convince perché non l'ho tolta tra l'altro questo è proprio inutile dina non serve perché la stiamo giocando ok la devo togliere subito vai chi ora va esatto con il nuovo UV control si quindi va bene di side ma nemmeno chi se ne frega vabbè si uno per di side yoga ok non è uscita la cosa che un po' di scrive va ok e beh in bocca al lupo caro ok non sta concedendo quindi alla risposta non sta concedendo quindi alla risposta comunque ho deciso vista la mia crociata contro i cartanuvisti non farò più le top 10 dell'espansione ma farò la top 5 delle carte più sopravvalutate dell'espansione appena deciso che userò questo format in linea con la linea editoriale del canale carne non lo puoi prendere mica mo vince di nuovo come prima questo pochi mana però per farlo ci sta ci sta è in linea con la linea editoriale del canale la top 10 la fanno tutti ma chi è che fa la top 10 10 no la top 5 delle carte sopravvalutate dell'espansione l'espansione